L'incontro tra il giornalista Egno Bellucci e l'autore e compositore Beppe Frattaroli svoltosi presso la sede dell'Università della Libera Età di Bussi sul Tirino ha registrato una grande partecipazione e un coinvolgimento emotivo senza precedenti. L'evento, tenutosi in un'atmosfera unica e coinvolgente, è stato caratterizzato da un'intensa commissione di musica, parole e poesia che ha arricchito il dialogo tra i due ospiti e il pubblico presente. Bellucci e Frattaroli hanno sapientemente intrecciato conversazioni su vari temi, spaziando dalla vita all'arte, dalla musica all'animo umano, fino a toccare gli argomenti di natura sociale ed intima. Le riflessioni condivise dai due ospiti hanno regalato al pubblico un pomeriggio di profonda introspezione e contemplazione dell'esistenza, alternando momenti di seria riflessione a pause di intelligente e piacevole leggerezza. Questo incontro ha lasciato un'impronta significativa nei cuori e nelle menti dei partecipanti, dimostrando come la fusione di diverse discipline artistiche possa offrire nuovi spunti di riflessione e arricchire il dialogo culturale della comunità. La presidente dell'Università della Libera Età, Rosa Pierro, ha sottolineato l'importanza di eventi simili per la crescita culturale e sociale delle comunità, evidenziando come momenti di condivisione e confronto possano creare un ambiente stimolante e accogliente. Bellucci e Frattaroli hanno saputo fare proprio questo, regalando un'esperienza unica e indimenticabile a tutti i presenti.